C'è chi urla. Questo posto è la mia vita. Chi piange. Non mi vanno idea. È schifosamente pazza. Chi nega. Io volevo aiutarla. Sì, vattene subito fuori dai coglioni. Ma alla fine, non puoi mai fregare Charles. Dovremmo tenere sotto controllo ogni angolo del ristorante. Che organizzazione. In prima visione assoluta, spie al ristorante. I nuovi episodi. Da lunedì 5 settembre alle 20.10 su Fine Living, canale 49.